Le festività natalizie, si sa, De Sica e Boldi lo insegnano per i più fortunati, sono momento di relax e vacanze, gli italiani ci rinunciano a fatica, gli elbani ancora meno. Dopo il lungo tour de force estivo, con orari di lavoro da capogiro e neanche un momento di riposo per ricaricarsi, la pausa invernale e in particolare i giorni compresi fra Natale e Capodanno sono i periodi più gettonati per dedicarsi a un po' di svago e magari andare alla conoscenza di luoghi da sogno in giro per il mondo. Anche in questo 2011, nonostante i venti di crisi che alleggiano anche da noi ai viaggi, gli elbani non hanno proprio voluto rinunciare. Lo confermano tour operator e agenzie turistiche che continuano a mietere prenotazioni per mete esotiche, città europee e isole del Mediterraneo ed oltreoceano, a conferma di una microeconomia che nonostante tutto qui da noi continua a reggere. Pochi giorni a Capodanno e anche se è un anno difficile, in tanti pensano comunque di partire lasciando l'isola. Come stanno andando le prenotazioni per i viaggi fuori dall'elba, magari anche all'estero o nel resto d'Italia? Allora, abbastanza bene, naturalmente vanno per la maggiore capitale europea, nel resto d'Italia si va sempre in montagna, abbastanza, quindi Trentino, comunque Alt'Italia, capitali, diciamo capoluoghi d'Italia, delle varie regioni, anche quelle abbastanza bene, quindi insomma noi non ci lamentiamo. Rispetto al 2010 potete dirci se c'è stata una flessione o se l'andamento è costante? Allora, a dire il vero, noi flessioni non ne abbiamo ancora viste, diciamo più o meno è costante. Ecco, magari chi faceva il viaggio un pochino più lungo ha scelto di farne uno più corto, ma comunque si parte lo stesso o permette un pochino più economiche, diciamo. Fra i paesi stranieri più gettonati? Sicuramente l'Egitto, oppure comunque anche appunto in Europa abbiamo abbastanza partenze per Amsterdam, quindi Olanda, Germania, Berlino, oppure Canaria. Ecco, Canaria c'è stato proprio il boom quest'anno. Che tipo di vacanza proponete? Noi qui siamo specializzati in prenotazioni di crociera in tutto il mondo e gli elbani abbiamo avuto parecchie richieste per Capodanno, ovviamente, solo che la disponibilità per Capodanno va richiesta con molto anticipo e gli elbani non si muovono con molto anticipo, anche perché settembre, agosto, settembre sono impegnati a fare altro. E anche però per febbraio, marzo e gennaio, dove invece c'è buona disponibilità e ci sono buone offerte e le destinazioni che vanno per la maggiore quest'anno, anche per una maggiore offerta delle compagnie classiche costa MSC, sono Dubai e Caraibi, dove appunto queste compagnie hanno potenziato l'offerta mettendo nuove navi, più grandi e aumentando il numero di partenze. Rispetto al 2010, nonostante la crisi, che cosa riscontrate voi in termini di prenotazioni? Ma rispetto all'anno scorso, questo a livello italiano, perché noi ovviamente non vendiamo solo all'Isola d'Elba, ma siamo specializzati, abbiamo un portale di prenotazione che è rivolto a tutto il mercato italiano, siamo più o meno sui livelli dell'anno scorso, un leggero aumento dovuto probabilmente anche a una maggior offerta di last minute, promozioni, le cosiddette parti subito, formula e roulette, che sono state quest'anno in quantità maggiore rispetto all'anno scorso e quindi si trovano comunque prezzi vantaggiosissimi rispetto a comprare con largo anticipo e quindi a prezzi di listino.